novena dio padre meditazione per conoscere onorare ed amare più profondamente a dio padre secondo giorno pandre tu sei la vita conoscere te o padre è la vita la vera vita la vita eterna infatti è questo che cerchiamo sempre siamo costantemente alla ricerca di qualcosa che ci soddisfi che ci renda felice secondo il nostro concetto di felicità qualcosa che perdure ma può esserci vera felicità senza di te impossibile e spesso lo sperimentiamo con dolore quando le illusioni vengono meno lasciando il nostro cuore ferito o addirittura spezzato nella tua saggezza hai disposto così padre amato anche se a volta fa male è che noi ci smariamo facilmente desideriamo bene i transitori come se potessimo possederli per sempre quando prendiamo queste strade viviamo nell'inganno e non c'è vita in esse l'illusione ci tiene imprigionati e ci impedisce di muoverci verso la vita quindi è meglio svegliarsi nel dolore che continuare a sognare a volte nella menzogna quando ti incontriamo risuonano queste parole considerate con quale amore il padre ci ha amati perché fossimo chiamati figli di dio e infatti lo siamo ti incontriamo e ci invita a scoprire il grande amore della nostra vita un amore senza fine un amore che non vacila mai un amore che dura nel tempo e nell'eternità questa amado padre è la vera vita e una volta aperte gli occhi ti conosciamo sempre meglio e ci stoppiamo del tuo amore incomprensibile per noi che chiami figli vivere come tuo figlio significa che ogni mio giorno è iscritto nel tuo libro significa vivere senza preoccupazione liberarsi finalmente di ogni tensione ed essere veramente liberi perché tu sei mio padre e pensi a me padre questo è ciò che cerco veramente qualcuno che mi ami davvero qualcuno che sia sempre con me qualcuno che mi mostri la strada qualcuno che non potrò mai più perdere qualcuno che mi correga quando sbaglio amato padre santo agustino ti ha cercato finché non ti sei lasciato trovare da lui tardi ti ho amato e scriveva pieno di gratitudine avendo trovato in te la vera vita tu sai padre che ci sono ancora tanti che non ti conoscono veramente non sanno chi sei il loro creatore o chi sei il loro padre ma tu vuoi che tutti gli uomini vivano nella sicurezza del tuo amore cosa possiamo fare lo sai padre semplicemente parlare loro di te direttamente o indirettamente in tutti i modi possibili concedici la pienezza del tuo spirito affinché possiamo annunciarti come sei veramente e far conoscere l'amore che ci ha mostrato nel tuo figlio le persone hanno tanto bisogno di te e tu sei così desideroso di dare loro il tuo amore hai aperto la strada attraverso tuo figlio allora cos'è che li blocca e li intralcia quando dovrebbe essere così facile per loro venire da te o è chiaro sono le erbaci che il nemico semina nel terreno buono per distruggerlo e la legge del vero amore esige una risposta libera e l'assenza di violenza uno strato di ghiaccio si è formato intorno al cuore degli uomini la nebbia dell'errore li confonde di tanti altri ostacoli ma tu padre non ti arrendi non smette di cercare i tuoi figli e nemmeno noi vogliamo arrenderci permetteci di intraprendere la ricerca di te grazie a tutti